Luxuria è stata presente di recente al verissimo il programma condotto da Silvia Toffanin Pensate che non era sola ma le sue compagnette c'era un ospite speciale ossia l'armata madre e quindi proprio Luxuria si è confidata con Silvia Toffanin Ovviamente in questo video non vi posso dire cosa ha detto perché vi ricordo che c'è una privacy e inoltre potrei andare a vedere il copyright di Mediset la società per azioni per eccellenza però faccio presente che insieme a Silvia, quella di Luxuria che vi ricordo che piacevi riconoscere da Roma diversi anni fa di tempo ha raccontato della sua infanzia delle difficoltà che ha dovuto affrontare da giovane il rapporto duro con la famiglia ma anche con l'amata madre che si chiama Maria Michela che è stata ospite insieme a lei negli studi della Mediset va bene? non è stato semplice per proprio Vladimir andare avanti ma è riuscita a trovare la forza dentro se stessa e oggi si può ritenere una persona pienamente soddisfatta perché? perché in qualche modo, barra in qualche maniera la stessa Vladimir ha fatto quel salto di qualità e quel salto in avanti che le ha permesso di essere una persona che oggi si riconosce e si identifica come nel mondo femminile come è giusto che sia va bene? ringrazio per l'ascolto e per la visione non posso aggiungere altro di vero c'è una pratica che va rispettata giustamente però, cercate sul web e troverete la puntata cercate anche su Mediset Play perché troverete in play la puntata di bellissimo tu c'è Vladimir Luxuria iscrivetevi, commentate, ciao e una buona giornata a voi p.s. questo video non vuole vedere la pratica di Luxuria né di altre persone ma solo informare sotto nasce solo per questo motivo, non per altri motivi